Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Marco Agustoni e oggi sono qui per darvi purtroppo una notizia non troppo piacevole, una notizia che farà un po' arrabbiare i vari abbonati come me della Creative Cloud. Una news che ha a che vedere con i vari strumenti che Adobe ha messo recentemente a disposizione che sfruttano, come sappiamo, l'intelligenza artificiale per generare cose dentro i software come Photoshop e Illustrator. Adobe infatti ha recentemente dichiarato che metterà presto a disposizione per noi utenti dei crediti generativi, così li ha definiti, che di fatto andranno a limitare a livello mensile il numero di volte in cui potremo sfruttare le varie funzioni generative che vi ho già mostrato negli ultimi video. Però prima di spiegarvi un po' che cosa sono questi crediti, come funzionano e soprattutto perché Adobe ha deciso di introdurli, vorrei fare un piccolo riepilogo, un piccolo recap per spiegare a chi non ha visto i miei ultimi contenuti che cosa sia questa tecnologia innovativa che Adobe ha chiamato Firefly e vedremo anche velocemente che cosa è capace di fare. Ovviamente ragazzi se già sapete tutto passate pure al capitolo successivo visto che ho suddiviso questo video appunto in vari capitoli. Allora praticamente negli ultimi mesi Adobe ha introdotto questa tecnologia che ha chiamato appunto Firefly, la quale permette in primis attraverso il sito firefly.adobe.com di utilizzare degli strumenti del tutto innovativi che sfruttano l'intelligenza artificiale per, come vedete, andare per esempio a generare delle immagini a partire da una descrizione di testo per rimuovere oggetti o aggiungerne di nuovi nelle nostre fotografie, per creare automaticamente degli effetti di testo e anche per ricolorare velocemente delle immagini vettoriali. Il tutto sempre a partire da un testo descrittivo, il cosiddetto prompt di testo. Alcune di queste tecnologie sono state anche implementate in Photoshop su tutte il nuovo riempimento generativo e anche in Illustrator dove abbiamo la ricolorazione generativa che consente appunto di ricolorare automaticamente degli elementi vettoriali. Fino ad oggi abbiamo diciamo piacevolmente testato questi strumenti in maniera completamente illimitata, quindi senza vincoli o limiti di alcun genere, però purtroppo Adobe ha dichiarato che dal primo novembre le funzioni che abbiamo visto, di cui vi ho appena parlato, non saranno più illimitate e saranno quindi legate a dei crediti, a dei gettoni, dei token che non ci permetteranno più di avere la stessa libertà di cui godiamo oggi. Su questa pagina che vi lascio anche qui sotto in descrizione avete un riepilogo e avete spiegato nel dettaglio che cosa sono e a cosa servono questi crediti. Potete leggere quello che vi ho appena detto, ovvero che a partire dal primo novembre verranno applicati limiti ai crediti che attualmente sono illimitati e qui Adobe ci spiega anche il perché ha introdotto queste limitazioni. Poiché la generazione di contenuti con intelligenza artificiale richiede notevoli risorse di calcolo, abbiamo aggiornato i nostri piani per includere un'allocazione mensile di crediti generativi, quindi è più che altro un discorso legato alla potenza di calcolo di cui Adobe ha bisogno per generare queste risorse appunto tramite l'intelligenza artificiale, quindi ha imposto fondamentalmente dei limiti. Questi crediti che cosa sono? Abbiamo detto che sono dei gettoni fondamentalmente che possono essere utilizzati sulle varie funzioni che vi ho mostrato prima, quindi la ricolorazione generativa, l'illustrator, gli effetti di testo in Adobe Express piuttosto che il riempimento generativo in Photoshop. Ecco, quando noi andremo utilizzare quindi queste funzioni che sono scritte anche qui, ci verrà scalato un credito. Però attenzione perché in futuro qui c'è scritto che Adobe offrirà anche altri servizi con l'intelligenza artificiale che potranno generare immagini di risoluzione maggiore, animazioni, video e modelli 3D e per tali funzioni potrebbe essere richiesto l'uso di un maggior numero di crediti, quindi potrebbe essere che in futuro avremo anche la possibilità di generare dei modelli tridimensionali e che Adobe anziché chiedere un credito ne chiederà 3, ok? Quindi poi staremo un po' a vedere cosa succederà. Quanti crediti avremo? Allora qui dipende un po' dall'abbonamento, dal piano di abbonamento che avete. Allora per tutte quante le applicazioni come scritto qui, quindi per l'abbonamento che include tutte le app, avrete a disposizione 1000 crediti. Quindi io per esempio che possiedo questo abbonamento avrò tutti i mesi la possibilità di cliccare 10 volte su riempimento generativo per intenderci. Chi ha invece un abbonamento legato a un singolo software avrà 500 crediti, chi ha il piano fotografia ne avrà 250 o 100, chi ha Lightroom 100 eccetera eccetera. Quindi, ripeto, in base al piano di abbonamento avrete diversi crediti. Qui poi avete le tabelle degli altri piani. Ovviamente anche chi possiede l'abbonamento ad Adobe Stock avrà dei crediti come per tutti gli altri piani. Qui ci viene spiegato che per andare a vedere quanti crediti abbiamo a disposizione, vedete, dovremmo accedere al nostro account. Qui viene specificato che questa persona ha 23 crediti rimanenti. Ok, un'altra cosa da dire è che i crediti non vengono trasferiti, vedete, al mese successivo. Quindi ogni primo del mese i vecchi crediti andranno a morire, diciamo, e ne verranno generati di nuovi, non verranno sommati, non saranno cumulabili. Se avete più abbonamenti avrete anche ovviamente più crediti. Cosa succede se utilizzate tutti i crediti generativi? Questo è molto importante. Allora, per quanto riguarda gli utenti della Creative Cloud e di Adobe Stock, potranno comunque continuare ad utilizzare l'intelligenza artificiale, vedete, ma l'uso potrebbe risultare più lento. Quindi se terminerete i crediti potrete comunque utilizzare le AI, ma sicuramente richiederà più tempo. Quindi con i crediti fondamentalmente avrete una corsia preferenziale, mettiamola così. Qui viene rispiegato normalmente perché Adobe utilizza i crediti generativi. Infine vorrei soffermarmi su questa sezione dove Adobe specifica che dal primo novembre sarà possibile addirittura acquistare dei pacchetti di crediti generativi nel caso in cui ne avessimo bisogno. Quindi oltre al nostro caro e amato abbonamento, se avremo bisogno di altri crediti dovremo acquistare dei pacchetti a partire da 4 dollari e 99% crediti. Sinceramente questa è una cosa che non so a quanti potrà interessare e non so se funzionerà visto che già dobbiamo pagare un abbonamento e ci manca solo di dover aggiungere altri soldi per acquistare dei crediti. Non lo so, staremo a vedere come risponderanno gli utenti. Allora, cosa ne penso di questi crediti generativi? Onestamente sono rimasto un po' allibito quando ho letto questa notizia, non tanto per il discorso dei crediti in sé che ci stanno, visto che anche altri software che sfruttano l'intelligenza artificiale funzionano con dei crediti. Quindi non è tanto per il discorso dei gettoni. Più che altro sono rimasto un po' sorpreso perché Adobe ha già introdotto in Photoshop, per esempio, una tecnologia nella versione finale che ancora secondo me non è pronta al 100%. Abbiamo visto che per generare immagini decenti occorrono tanti tentativi, occorre generare tante varianti e quando avremo a disposizione dei crediti. Sicuramente ne sprecheremo un sacco perché appunto non sempre al primo click troveremo e otterremo l'immagine giusta per le nostre esigenze. Quindi avrei sinceramente preferito che questa cosa dei crediti venisse introdotta più in là, magari non so, l'anno prossimo, quando la tecnologia sarà già pronta definitivamente. Quindi ecco ripeto, sono rimasto un po' stranito per questa cosa. Comunque vorrei sapere anche il vostro parere qui sotto nei commenti, quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questi crediti generativi. Lasciate un bel like se questo video vi è stato utile, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nella prossima lezione.